Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale YouTube. Quest'oggi volevo farvi una piccola presentazione, in particolare una presentazione su un argomento che a me sta molto a cuore, che è quello della preservazione del software dai floppy disk. In particolare appunto da appassionato e collezionista di computer anni 80, è molto importante che tutto il vario software, anche software proprietario e realizzato appositamente per una certa macchina venga preservato perché con il tempo come vedremo c'è il rischio che appunto il disco si danneggi e il software vada perso. Ok, quindi adesso cominciamo subito con la presentazione, vi mostrerò appunto alcune tecniche che si usano, in particolare una per preservare il contenuto di floppy, in particolare da 8 pollici e da 5 e un quarto. Allora, partiamo subito con fare una piccola analisi delle varie problematiche che si possono riscontrare. Sicuramente con l'avanzare del tempo i floppy, in particolare quelli un po' più vecchi tipo gli 8 pollici e quelli da 5 a 25, rischiano di perdere con gli anni la loro capacità di memorizzazione delle informazioni. In particolare il problema sta nello strato di materiale magnetico che perde le sue proprietà, proprietà fisiche, si rovina eccetera. I problemi ancora un po' più gravi possono essere quelli dovuti anche alla conservazione di questi dischi. Mettete caso che ad esempio siano conservati in una soffitta con molta umidità, c'è il rischio che la superficie sia mufisca o se sono conservati in uno scatolone senza magari la loro cover in cartoncino protettiva, rischiano di essere graffiati o comunque di essere sporcati di polvere eccetera. Un altro problema da non sottovalutare assolutamente invece è appunto la loro conservazione nelle vicinanze, nei pressi di sorgenti di campi magnetici. In questo caso si rischia totalmente di smagnetizzare il disco e quindi anche poi il tentativo di recuperare le informazioni molto probabilmente non va a buon fine. In particolare avevo fatto una prova con un disco di un Commodore 64 e avevo provato a lasciare un disco, all'inizio era per sbaglio, che mi ero dimenticato, appoggiato sopra il drive, appunto sopra la zona del trasformatore del 1541 della Commodore e fatto sta che dopodiché, dopo un po' il disco quando l'ho inserito nel Commodore, nel drive per leggerlo non si leggeva più e quindi è appunto un problema dovuto alla presenza di campi magnetici che rischiano di smagnetizzare il disco. Fate l'esempio più semplice, una calamita, se voi appoggiate una calamita sopra un floppy non fatelo perché rischiate di rendere il disco illeggibile e i dati irrecuperabili. La motivazione principale per cui vogliamo leggere un bacchio floppy è sicuramente per preservare il contenuto, il software che con il tempo magari rischia poi di essere perduto e non più facilmente ritrovato. Pensate ad esempio a un floppy di avvio di una macchina cpm italiana o un floppy di una qualche applicazione particolare e l'obiettivo principale appunto è quello di preservare il contenuto di questi dischi per preservare la storia di una particolare macchina salvando il software appunto che altrimenti rischia di andare perduto con gli anni. Dopodiché un altro pregio della lettura di questi dischi è che una volta che il disco viene appunto salvato e trasferito, adesso vedremo come su un pc moderno, tramite degli emulatori questi floppy possono essere anche diciamo in un certo senso ricaricati in una macchina virtuale e appunto si può appunto vedere i dati che contengono eccetera. In particolare se salviamo dei floppy con ad esempio un sistema operativo di una macchina particolare avendo anche magari i dump dell'eprom di quel particolare retro computer si può garantire l'emulazione quasi sempre su un pc moderno. Dopodiché un altro discorso un po' più affettivo diciamo se voi avete scritto una tesi di laurea o comunque avete qualche ricordo su floppy dell'epoca e volete recuperarlo o magari anche proprio dei dati che vi servono di qualcosa che avete scritto all'epoca e li volete salvare in modo permanente o quasi su un pc moderno e può tornare molto utile fare seguire alcuni processi che adesso vedremo. Come si fa? Ve lo dico subito. Ci sono sostanzialmente due tecniche. La prima è quella di collegare un floppy drive a un vecchio pc diciamo un Pentium 486 o qualcosa del genere e lanciare il software ImageDisc che è stato creato appunto da una persona appassionata che appunto cerca anche lei di preservare quanto più software possibile e appunto se voi avete un vecchio Pentium potete usare questo metodo qui ma nel caso non aveste nessun Pentium o non aveste modo di utilizzare appunto un pc del genere per fare questo lavoro perché oltre che avere il Pentium serve avere poi un'interfaccia che appunto consenta il collegamento appunto di un drive cosa che magari può essere in certi casi non troppo semplice recuperare un Pentium funzionante avere un'interfaccia che funzioni eccetera eccetera e infatti poi alcune persone hanno realizzato ci sono varie schede in giro che consentono di diciamo interfacciare un floppy drive a un pc moderno tramite la porta usb e in questo caso consentono di fare un dump a livello magnetico del disco cioè praticamente viene analizzato ogni sezione infinitesima del disco il campo magnetico e appunto viene salvato un flusso di informazioni che dopo possono essere ricostruite per creare appunto un file immagine del disco queste schede che si trovano in giro sono la Cryo Flux, la Flux Engine e la Grease Weasel sono alcuni esempi questi qui, in particolare in questo video mi concentrerò sul dispositivo Cryo Flux la potete vedere qui, è una scheda molto compatta questa qui che è basata su un microcontrollore della HTML, un microcontrollore denominato SEM7S256 che è questo qui nella scheda che praticamente questo si può interfacciare direttamente all'USB, poi potete vedere che la scheda dispone anche di questo connettore qui a 34 pin che consente di collegare appunto floppy drive da 3.5 o da 5.5 e poi qui potete vedere che c'è dell'elettronica aggiuntiva appunto dovrebbero essere dei buffer per appunto come si dice si interfacciare il drive con il microcontrollore qui potete vedere la Cryo Flux che mi sono costruito io per uso personale e sostanzialmente ho qui una scheda che monta il microcontrollore SEM7, questa scheda di sviluppo qui dopodiché ci ho costruito tutta l'elettronica che ci sta intorno, in particolare ho messo i tre integrati 74LS244, alcuni resistori di pull up, dei led, ho messo il connettore quello da 34 pin dopodiché ci ho aggiunto anche un connettore a 50 pin che è quello che consente di collegare in questo caso direttamente un drive da 8 pollici, altrimenti avrei dovuto acquistare un qualche adattatore che dai 34 pin passava ai 50 pin, questi si trovano tranquillamente su ebay, però appunto ho avuto questa idea di costruire una scheda che appunto mi consentisse di fare tutto, una scheda compatta con il connettore da 34 pin e il connettore da 50 pin e vari jumper per appunto per vari settaggi, per settare la lettura da drive 0, drive 1, qua la selezione della densità e vedremo meglio in seguito. Parliamo un attimo dei drive, un po' di storia che ci sta dietro, e allora i drive e i floppy da 8 pollici sono stati ideati dalla Shugart che ha realizzato anche il primo protocollo di interfacciamento, da cui poi sono derivati tutti gli altri drive che usano tutti questo protocollo. I drive da 8 pollici invece sono stati poi usati anche nei primi word processor, in alcuni cpm italiani, infatti nel mile 1000 di cui potete trovare il video sul mio canale, monta dei drive della Shugart, quindi proprio alcuni dei primissimi drive realizzati da 8 pollici della Shugart. I floppy disk invece hanno delle caratteristiche, sicuramente la densità, poi le tracce e i settori. Tipicamente, faccio riferimento ai dischi usati in alcuni cpm italiani, hanno 26 settori da 128 bytes e un massimo di 77 tracce, tipicamente. Comunque questi parametri li trovate riportati sul vostro dischetto da 8 pollici sotto la marca appunto del produttore del disco. In particolare queste caratteristiche dei settori, i byte dei settori, le tracce, vanno specificate sul profilo di acquisizione della Creo Flux. In particolare, se noi dobbiamo leggere un disco da 26 settori, 128 bytes, che ha 8 numero di tracce, vanno rispettati questi parametri. Anche se per fare il dump a livello magnetico delle volte del software della Creo Flux basta specificare i parametri di default, però un problema che può capitare ad esempio con la lettura dei flop da 8 pollici, è che bisogna specificare correttamente il numero di tracce. Se queste caratteristiche non sono correttamente specificate nel profilo di acquisizione del software della Creo Flux, la lettura non parte e vengono generati diversi errori. Parliamo adesso un attimo dei drive e dei flop da 5 e un quarto. Sono una versione più compatta dei flop da 8 pollici, sono i successori dei flop da 8 pollici e direttamente appunto derivati da questi. I drive da 5 e un quarto sono stati prodotti da svariate ditte, tutte che però utilizzavano il protocollo dell'asciugato degli 8 pollici, con l'unica differenza è che il connettore aveva 34 terminali anziché 50 terminali per appunto il trasferimento dei dati dal flop, dal computer, eccetera. Sono stati utilizzati sostanzialmente in tutti i computer anni 80, dalla Commodore, gli IBM, l'Olivetti, l'Apple 2, l'Atari, eccetera. E che però è una particolarità è che ogni computer utilizzava un suo formato di scrittura. In particolare ricordiamo che la Commodore usava il GCR, poi c'erano il formato FM, l'MFM, eccetera. Quindi adesso voi probabilmente vi state chiedendo come faccio io a sapere qual è il formato corretto, come faccio io a scegliere poi nel software, dirgli in che formato deve leggere, eccetera. Beh, molto spesso per preservare il contenuto di un disco basta sostanzialmente nel profilo di acquisizione dire che la Creamflux deve operare come campionatore di flusso magnetico e generare quindi dei dati RAW, del RAW Dump del flusso magnetico che poi vengono dati in pasto a un software chiamato HXC Floppy se non sbaglio si chiama HXC Floppy Emulator, sì. E questo tool qui ci permette, una volta fatto il Dump a livello magnetico del disco, di ricreare le immagini nei vari formati, quindi ad esempio un'immagine MFM, ad esempio. Ok, questa qui era di fatto una piccola panoramica iniziale, andiamo ora a vedere nella pratica come fare per leggere un disco da 5.25 piuttosto che un disco da 8 pollici. Ecco, potete vedere qui il setup per la lettura dei floppy da 5.25, in particolare abbiamo qui il drive da 5.25, in questo caso un drive della Fujitsu, dopodiché abbiamo una TX che è necessario ad alimentare il drive con le tensioni più 12 e più 5 volt, abbiamo qui questo connettore che ci permette di mettere in comunicazione il floppy drive con la nostra scheda, e qui appunto abbiamo la scheda ClioFlux, in particolare la versione che mi sono autocostruito, e appunto abbiamo collegato il flat al connettore a 34 pin, perché questo appunto è un drive da 5.25, qui poi abbiamo la scheda che si va a collegare al computer con il cavo USB. Qua ho configurato il drive come drive 0, spostando questi due jumper verso destra, questi jumper non servono, non si considerano in questo caso, perché sono per il drive da 8 pollici, e qui abbiamo appunto la nostra scheda che adesso appunto ci permetterà di leggere il disco, controllata dal software che adesso andiamo a vedere. Questo qui è il software, in particolare l'interfaccia grafica del software, è scritto per comunicare con la scheda ClioFlux, potete vederlo qui. Adesso la prima operazione che faremo sarà quella di calibrare il drive. Ecco, ora che il drive è calibrato andremo a inserire un dischetto nel drive, e andremo a fare appunto il dump a livello magnetico di questo disco. Il dischetto che andremo ad ampare è questo qui, il primo dischetto che mi è capitato sotto mano, lo andiamo a inserire nel drive, andiamo a dare un nome al disco, quindi a tutto l'insieme di dati che andranno letti dalla ClioFlux, selezioniamo New Image Profile, quindi un profilo immagine appunto per la preservazione dei dati in formato RAW, e utilizziamo le impostazioni di default. Come potete vedere appunto sui settings, ci sono vari tipi di immagine che può creare per un disco Apple, per un disco Commodore. Noi usiamo il New Image Profile, estensione RAW e utilizziamo le impostazioni di default, ClioFlux Stream Files Preservation, questo qui. Diamo l'ok, e siamo ora pronti per leggere il disco. Ecco possiamo vedere che la lettura è stata completata con successo, ovviamente segna che il formato è sconosciuto perché verrà appunto impostato dopo durante la fase di conversione in un'immagine eventualmente. Qui abbiamo letto appunto entrambi i lati del disco Side 0 e Side 1. Ecco abbiamo ottenuto tutta questa serie di dati RAW per ogni traccia e ogni lato, che poi se appunto andiamo ad utilizzare il tool HXC Floppy, che è questo qui, selezionando batch converter e selezionando poi il tipo di immagine di uscita che vogliamo, possiamo ottenere un file del genere, che adesso vi faccio vedere qua. Ecco in questo caso il Dump a livello magnetico, i vari file che avete visto, sono stati convertiti in un'unica immagine in formato IMD, che appunto è un'immagine del disco. E un'immagine del genere l'avremmo ottenuta appunto anche facendo il Dump del disco tramite ImageDisc, tramite il software ImageDisc di cui vi parlavo in precedenza. Questa qui invece è la configurazione con un drive a 8 pollici. Come potete vedere qui abbiamo questo drive, questo drive qui prodotto dalla Toshiba, di cui non sono riuscito a trovare informazioni o data sheet in rete, però so che era utilizzato con il mio Kyber Minus, di cui potete trovare il video sempre sul mio canale. questo era configurato come drive 2, solo che ho notato che comunque gli mancava questo componente qui. Questo componente qui, altro non è che una rete resistiva, che funge da terminatore. In particolare l'ultimo drive di tutta una catena di drive collegati in cascata doveva appunto avere questo componente qui come terminatore. Se non è presente il terminatore nell'ultimo drive della catena, praticamente si hanno problemi sia nella lettura che nella scrittura e quindi anche in questo caso per questo utilizzo qui non si ottengono dei dati validi. Poi qui potete vedere che questo drive è anche dotato di altri jumper. Questi qui dovrebbero essere quelli di disk select, appunto impostato come drive 2 e dopo ce ne sono altri di cui però non conosco con esattezza, con precisione l'utilizzo e quindi perché appunto mi manca il datasheet del drive, però dopo diverse prove sono riuscito a farlo funzionare e quindi appunto va bene così diciamo. Allora alcune particolarità di questa configurazione. Allora innanzitutto serve sempre una TX perché anche questo drive, come forse avete intuito, va alimentato. Parlando delle alimentazioni richiede 5V che sono presi da questo connettore qui della TX e la cosa più particolare è che richiede 24V per il motore, se non erro, il motore della testina. Però la TX non fornisce 24V, però dai 12V della TX tramite questo piccolo modulo che si può acquistare in rete per pochi euro questo qui riesce a innalzare la tensione e appunto a portarla regolandola tramite questo trimmer fino a 24V che servono a noi in questo caso e riesce a fornire una corrente massima di 2A, mi ricordo bene e appunto per questa applicazione qui funziona abbastanza bene, fa il suo dovere diciamo. Dopodiché si servono sempre anche i 5V classici che sono presi da qui e di fatto così il drive è alimentato. Un'altra particolarità è che il drive per far spinnare appunto il disco richiede un motore da 220V. Eh sì, questo motore qui è alimentato direttamente con la 220V e spina di continuo di fatto. Quando voi lo alimentate, anche all'accensione dei vecchi computer dell'epoca, questi motori che funzionano con la 220V erano sempre in rotazione di fatto. E una particolarità sulla velocità di rotazione di questi drive è che dovrebbero girare a 360 rpm anziché 300 rpm che è appunto la velocità con cui vengono fatti girare gli altri drive. anche appunto nel disco che abbiamo letto prima il driver ha fatto funzionare con una velocità di rotazione di 300 rpm. Il motore è questo qui. c'è scritto anche se non si legge 1500 rpm però poi in realtà con tutto un sistema di cinghie eccetera viene portato appunto a girare a circa 360 rpm questo motore qui. RPM appunto sta per round per minute. va bene dopo di che abbiamo questo flat che non vi ho parlato prima però è molto importante. Questo flat qui con un connettore card edge a 50 pin è appunto impostato come drive 2 perché questo drive qui era setato nel kyber minus come drive 2 l'altro drive era un busf però non è in condizioni molto buone quindi ho preferito usare questo drive qui e che dire di fatto siamo pronti appunto per leggere un disco anche con questo drive qui quindi andremo a leggere un disco da 8 pollici. qui potete vedere che ho alcuni dischi qua ne abbiamo uno che possiamo inserire nel drive viene appunto poi chiuso il drive e adesso sicuramente dovremo fare una calibrazione del drive dal software della cryo flux ecco non dobbiamo dimenticarci che questo qui è settato come drive secondo quindi drive 0 il primo drive 1 è di fatto il secondo e possiamo dare un calibrate e appunto potete vedere che abbiamo calibrato il drive in particolare possiamo vedere che la traccia massima che può essere letta da questo drive il maximum track for this drive is 41 quindi appunto è proprio un limite meccanico che noi riusciamo a vedere fino alla traccia 41 è un drive a 40 tracce di fatto dalla 0 alla 40 sono 41 tracce in tutto è importante adesso settare un profilo appunto apposito per appunto i dischi da 8 pollici qua ne avevo già preparato uno in particolare dovremmo in questo caso abbiamo questo drive qui distanza delle tracce 40 gli rpm come vi ho già detto prima sono 360 di rotazione del di spin di fatto del disco traccia finale se la prima è 0 sarà 40 lo stesso serve settare qui e max track diceva lui 41 ok questo non c'entra perché lo stiamo usando come drive secondo qua poi c'è scritto il numero di retries in questo caso cioè se dovesse riscontrare delle difficoltà nel leggere una sezione del disco quante volte deve riprovare in questo caso possiamo mettere uno perché altrimenti diventa un'operazione di lettura che richiede svariati minuti questo qui è un disco single side quindi down questa parte qui segna dei blocchi rossi perché appunto non riesce a leggere alcun contenuto qui potete vedere il drive che sta leggendo ovviamente qui arriveremo fino a 40 e qualcosa sì 41 mi pare fosse il limite perché appunto è il limite di tracce che riesce a leggere il drive anche in questo caso otterremo una sfilza di file in formato raw questo qui è l'ultimo track 41.1 e anche in questo caso utilizzando il tool hxc floppy potremo convertire questi file qui in un unico file immagine ecco anche in questo caso ho creato un file imd che è appunto questo file qui che appunto potete vedere che abbiamo letto il disco da 8 pollici che appartiene a un trs80 model 2 e appunto noi qui abbiamo la nostra immagine del disco appunto preservata assieme ai vari file raw ecco sostanzialmente questo è il metodo di preservazione dei floppy tramite cryoflux qui potete vedere appunto che c'è questo connettore che ho aggiunto io nella cryoflux che mi sono autocostruito per gli 8 pollici qui questi jumper qui che non vi ho parlato prima ma ve lo dico ora sono dei jumper che selezionano se il disco è single side double side la densità singola scusate doppia o alta densità e poi anche la configurazione del motore per far capire se il drive deve comportarsi come drive 2 o come drive 1 nel nostro caso era configurato come drive 2 va bene spero che questo video vi sia interessato vi do appuntamento ad un altro video sempre sul mio canale youtube vi do appuntamento ad un altro video vi do appuntamento ad un altro video vi do appuntamento ad un altro video